Massimo, Marco, Giulia, Tatiana, Jovel, Rachele, Camilla, Eugenio, Giulia e Paolo. L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di voi. Chiamateli forze sovrannaturali oppure intervento divino. Ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. L'uomo si illude di essere il risultato del libero arbitrio. E' bello, bello. E' stato fatto bene. Andiamo, andiamo a dire. E' bello, bello. E' bello. E' bello. E' bello. E' bello. E' bello. Grazie 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 Grazie